La cosa più importante era passarlo questo girone, è stato un girone che abbiamo gestito bene, lo abbiamo giocato bene, con coraggio, con personalità e alla fine abbiamo meritato la qualificazione, credo che passarlo come secondo è un po' più complicato, sarà un ottavo di finale più complicato, ma l'importante è stare nell'ottavo di finale. Corriere dello Sport, una domanda per uno ragazzi, già non abbiamo molto tempo e ci siete in tanti, una domanda per ognuno. Ciao Carlo, mi interessa sapere il tuo stato d'animo. Sono contento perché, come ho detto, al di là della partita. Sono contento perché abbiamo, diciamo in un periodo di magra abbiamo ottenuto un risultato importante, questo spero che possa dare un impulso alla squadra a fare meglio anche in campionato, questo era, credo che abbiamo speso molte energie in questo girone di qualificazione, giocando contro squadre che è a livello di intensità tra le top in Europa e quindi il mio stato d'animo è che sono contento che abbiamo passato il turno. Canale 21 e poi Tele Luna. Perché solo chi passa il turno può vincere la Champions. Canale 21, poi Tele Luna, poi Corriere della Sera. Gli alicelli di Canale 21, mister, ieri in conferenza stampa analizzammo la mia sensazione, che questa potesse essere la sua ultima gara. Lei chiedeva a questa partita una serie di indicazioni, le ha ricevute e domani cosa si dirà con il presidente De Laurentiis, è un incontro per restare e costruire o un incontro per un divorzio consensuale? È un incontro per valutare la situazione del momento e poi insieme prendere quella che è la decisione giusta per il Napoli e per tutti noi. La mia è quella che oggi sono ancora sulla panchina e spero di esserlo anche per la prossima. Tele Luna, poi Corriere della Sera. Buonasera Carlo, ieri in conferenza stampa dicevi se ci sono segnali dal campo bene si può continuare, se non arrivano questi segnali è meglio chiuderli qui. Allora io ti chiedo, i segnali che ti aspettavi per restare sono arrivati? Sì o no? No, sì, ho visto una squadra attenta, ancora non sciolta come dovrebbe nella costruzione del gioco, però siamo stati efficaci, abbiamo sfruttato molto bene Rientro De Mili che ha dato una mano importante alla squadra, ma tutti hanno dato il loro contributo. Non è stata una partita eccezionale, ma a livello caratteriale la squadra era preparata. Corriere della Sera, poi Ansa. Ministro buonasera, questa sera il San Paolo è tornato a applaudire dopo mesi, ma soprattutto ha applaudito lei in maniera abbastanza visibile e in maniera abbastanza partecipata. forse è un segnale che questa gente le dà di non essere sospeso almeno per questa notte e quindi di restare in qualche modo radicato alla sua panchina. Io non ho nessuna decisione da prendere, non ho nessuna valutazione da fare, se non quella con il Presidente che deciderà se in base alle sue indicazioni si può andare avanti oppure no, non è che ci sono molti altri discorsi da fare. Ansa. Le ha fatto piacere comunque? Le ha fatto piacere? No, molto, molto, soprattutto la tifoseria è ritornata a stare vicino alla squadra, quello è stato sicuramente importante, ma come sempre dipende tutto da noi, se i giocatori mostrano attaccamento i tifosi sono della tua parte. Ansa e poi a chiudere il Roma. Eccomi, sono qui sulla sua destra. Le ha salutato i tifosi in tribuna andando via, c'è un messaggio diciamo? No, ho salutato mia moglie. Ok, va bene. Allora le sembra, le faccio una domanda. Spero di trovare la casa stasera. Una domanda. Ci sarà sicuramente, diciamo, le sembra normale essere in bilico dopo un 4-0 in Champions alla qualificazione? Insomma, il fatto di essere in discussione è assolutamente normale, fa parte di questo mondo. La squadra, come avete scritto tante volte, ha avuto un rendimento negativo nel campionato. Niente da dire nella Champions, ma il campionato è stato, proprio per quello che abbiamo fatto in Champions, deficitario. Il Roma a chiudere. Buonasera, mister. Il ritorno di Milik, primi gol in Champions, tripletta, quanto è mancato questo attaccante? È mancato, è mancato, è inutile nasconderci. È un attaccante importante per la squadra, ma devo dire che c'è stata una collaborazione da parte di tutti, Mertes ha fatto un'ottima partita, un bellissimo gesto nel dare, nel concedere il rigore a Milik per fare la prima tripletta con la maglia del Napoli. Insomma, ci sono degli ottimi segnali da questa partita. Bene, grazie e buona serata. Ci vediamo sabato.